Noi siamo molto fiduciosi che ce la faremo, soprattutto le elezioni europee sono importanti, come diciamo sempre se riusciamo a vincerle abbiamo la possibilità di creare una crisi di governo, di aprirla, di far capire, aspettate un attimo, al potere costituito che i 5 Stelle hanno vinto le elezioni, perché non ci sono le alleanze nell'elezione europea, per cui se prendiamo più voti di tutti dovranno scrivere, anche un'idea di regime, il Movimento 5 Stelle vincendo, oppure scriveranno, tutti i partiti vendono, sono capace di scrivere, tutti i partiti vendono e vince altro, ecco non siamo altro, ma ci va bene se non siamo altro, in quel caso, qualora dovesse vincere le elezioni dipende da ognuno di noi quanto riesce a convincere qualche parente, amico, delle persone all'università, convincere a partecipare, poi il voto è relativo, se partecipiamo, se ci informiamo, votare 5 Stelle è proprio automatico, diremo al Presidente della Repubblica, cortesemente, può sciogliere le camere e ci può far votare? O allora dice, se no, vi chiederemo pacificamente di scendere a Roma, di circondare il Parlamento, pacificare il Parlamento e portare le carrozzelle con i figli e alzare un pochino più la voce e pretendere esclusivamente nuove elezioni politiche, in quel caso ci conteremo e valuteremo se vincono l'uomo o vince questo altro? Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Scusate Grazie Grazie